Continua a far discutere e a suscitare polemiche la decisione presa nei giorni scorsi dal Tribunale di Roma di concedere per la prima volta nel nostro paese l'adozione di una bambina ad una coppia composta da sole donne. Aprendo così per la prima volta in Italia, anche sulla base di questo precedente, alla possibilità di affidare bambini a due omosessuali conviventi. Una notizia che ha ben presto infiammato il dibattito in tutta Italia e anche a Biceglie, come testimoniato da un'intervista realizzata da Mimì Capurso Storico Bicegliese a Monsignor Mauro Cozzoli, docente di teologia morale all'Università Lateranense. Questa sentenza, afferma Monsignor Cozzoli nell'intervista, lede il diritto della bambina di nascere da un padre biologico che si assume e adempie la responsabilità educativa e affettiva, ruolo fondamentale e rinunciabile nello sviluppo dei bambini. Le due donne, entrambe mamme, vivono a Roma e sono sposate all'estero da ben 11 anni. È del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad una sentenza ideologica che vuole scavalcare il Parlamento e che soprattutto non guarda al bene della bambina, dichiara anche il magistrato Giancarlo Cerrelli, vicepresidente nazionale dei giuristi cattolici. Loro, le due mamme, sono felici, ma la piccina non ha un padre. Questo in sintesi è il parere di tantissimi italiani credenti e non aggiunge.